Ciao, voglio parlarvi di alcuni film che ho visto. Innanzitutto, questo film, un film taiwanese, si chiama in inglese Seven Days in Heaven. È una storia molto interessante perché parla delle tradizioni di Taiwan. A proposito dei morti, quindi la storia di un papà che muore e i suoi due figli, un maschio e una femmina, devono fare tutti i riti per il funerale. E quindi sono molto impegnati a seguire tutte le regole dei riti per i morti e non hanno neanche il tempo di pensare veramente al loro papà morto e anche a piangerlo veramente. Infatti tutte le volte che devono piangere sono costretti da alcuni riti che devono fare. Soltanto alla fine di tutto il funerale, che dura tanti giorni, appunto sette giorni, la figlia riuscirà veramente a ricordarsi del suo papà morto e a piangerlo. È un film molto bello che vi consiglio anche per capire un po' di più la cultura taiwanese. Taiwanese.